L'ordinanza è un atto gestionale, l'ordinanza l'ha fatta il sindaco sulla scorta delle direttive date il 26 settembre dal presidente della regione Rocetta, rispetto a tutte le normative vigenti, invece i consiglieri comunali con quell'emendamento volevano entrare nella gestione dell'amministrazione comunale. Anzi, quell'emendamento che io ieri sera ho avuto modo di leggere, che andava davvero a dare delle direttive gestionali al sindaco. Già l'amministrazione si è attivata, ha fatto il piano finanziario e l'attenzione dell'assessorato regionale, aspettiamo il parere e poi mandiamo in gara il piano finanziario che è inferiore rispetto a quello che aveva lato, di circa un milione e mezzo di euro e così ci sarà un notevole risparmio. Nel piano finanziario è previsto che lo spazzamento lo fanno i nostri dipendenti e penso che le tariffe saranno dal prossimo anno notevolmente più basse. Prima di mandare in gara o fare qualsiasi manifestazione di interesse ci vuole un progetto che noi attualmente non abbiamo. Abbiamo approvato il nuovo piano finanziario ma è esula dal vecchio piano finanziario e per questo motivo non si può fare nessuna manifestazione di interesse. Prova ne sia che il 26 settembre abbiamo avuto le direttive da parte dell'assessorato regionale dicendo che i sindaci di andare in deroga con le ordinanze. Per quanto riguarda la polemica innescata sulla registrazione o meno dell'atto ci sono stati anche degli appunti su questo. Voi cosa dite? L'ordinanza è esecutiva nel momento in cui il sindaco firma l'ordinanza. Non c'è nessuna discussione. I consiglieri comunali strumentalizzano del tutto, cercano di non fare interesse dell'ente ma vogliono fare interessi particolari.